Quante cose buone! Lo so, qui al Beer Grills hai a disposizione un'ampia scelta, c'è da perdersi! E infatti mi sono persa nella cozzeria! Io nei piaceri della carne! Tomowak, Fiorentina, Piccania di Angus, Costata di Sashi Prussiano e del Menuh Mare, ne vogliamo parlare? No, vogliamo ordinare! Ristorante e pizzeria Beer Grills, via Alessandro Manzoni 4, Senor B, io mi prendo anche i prodotti su BOTU di loro produzione! E io su MIRTU!